L'interesse della Diocesi di Milano per questo progetto inclusivo per giovani, specialmente ragazze che si trovano in situazione borderline. Come la Chiesa di Milano si sente investita di questo interesse? Certamente questa è un'iniziativa molto bella che mette insieme diverse agenzie educative. Per noi tutto ciò che aiuta la promozione della persona e soprattutto aiutare persone che vivono situazioni di difficoltà, uscirne, è sempre molto bello. Io ho potuto vedere da vicino questo progetto, in particolare sono rimasto ammirato da come attraverso anche l'espressività, l'arte, si aiutino queste persone a recuperare un desiderio di vita. A me sembra molto bello il fatto che persone che per la loro storia si sono trovate inceppate nel loro cammino possano ripartire e ritornare, esprimersi. Ed è bella anche questa espressione che è stata utilizzata, che proprio parte anche da un disegno fatto da una ragazza che richiama il tema del desiderio. Il desiderio che è parola bellissima, che ha a che fare proprio anche con il cielo, con le stelle, con gli astri. Io credo che noi oggi dobbiamo aiutare i giovani, in particolare quelli che stanno vivendo momenti di difficoltà, a ritrovare voglia di vivere e di desiderare un mondo più bello dove poter essere protagonisti.